Ciao a tutti ragazzi sono Zanzo, bentornati sul mio canale e oggi siamo nel vlog del Luca Zanzo, mia mamma ha un audio per te Ok, ragazzi abbiamo in diretta un audio della mamma di Charlie, sentiamo Allora, lui e Zanzo ha fatto un audio a mia mamma dove la chiamava signora, questa è stata la risposta di mamma Scusate, io vorrei pisciare, potete andare da un'altra parte a fare queste cose Mi scusi, lei potrebbe anche andarsi un attimo a fanculo, grazie Mia mamma Amore, io a Zanzo, che se per caso si permette ancora chiamarmi signora, tutti i graffi che non ha fatto oggi salendo alla villa Vengo io con una chiave e le rifaccio io, gli dico tutta la macchina Gli hai detto che la macchina non è mia? No Che può farlo tranquillamente Allora, mamma di Charlie, allora a questo punto ti do del tu Se vedrai questo video ti chiedo scusa e dalla prossima volta ti chiamerò ragazza Mamma Moon Mamun, ok, va bene, perfetto Turno in doccia della casa e poi andiamo a Luca Salotto dove dormiamo io eco Camera da letto numero 2 Continua del salotto dove dormiamo io eco Bagno, cucinotto, altro bagno Camera da letto numero 2 Anzi, numero 3 Camera da letto numero 4 Camera da letto numero 5 Ok, stiamo andando finalmente a Luca Sono tipo le 3 e un quarto Ci metteremo un quarto d'ora solo per arrivare sulla strada Perché per avvenire qua su, nonostante sia bellissimo il posto C'è una stradina tipo minuscola, strettissima Fatta tipo di ghiaia, buche, morte C'è Charlie che sta vloggando anche lei Questa è la macchina di eco Ma che bel colore Ci vediamo a Luca Ok ragazzi, ce l'abbiamo fatta A zero tacche di batteria la GoPro Complimenti Sono ufficialmente per la prima volta dentro a Luca Siamo in direzione stand della Riot Della Rito Della Rito E andiamo a trovare tutte le altre belle persone Però prima mettiamo la GoPro sotto carica Ciao Ragazzi, buongiorno Seconda giornata qua a Luca Ciao Ma perché tutti questi cappelli Stanotte erano su questo divano Dove stava dormendo Sbucci? Dove stava dormendo lui? Stavo dormendo, dove vuoi? Vedi? Mi dormi bene È morto Erano tutti sopra Sbucci quei cappelli miei Tipo il cappellaio Marco Marco è andato giù a fare colazione? No, ma c'era Sei svegliato? Sei partito a 200 Sei venuto di là Hai fatto 2000 corse Un gioco Fra dove vai? Sto vedendo, scusa Sono emozionato Anch'io ho visto Friere Guardiamo Marco in bagno da un'ora Che sta cagando Cosa sta cagando? Pasqua Drago Ma in doccia Ah Che ne pensi? Stiamo cercando la scarpa di Sbucci È sparita Sì Mi ricordavo che ieri sera Mi ricordavo che l'avessero messa Nel mobile Dove stanno Prova a chiamare Ciava le mattina Però Ma tu hai dormito col pass al collo? Certo Non ho dormito col pass al collo Sbucci Il pass alcolico Qua dove abbiamo dormito Io eco Masa è appena sceso di sopra Facciamo delle belle persone Cortile Qua ci sono altre brutte persone Arrecazzate Delle riflessioni notturne Mi mancherai Luca Hello darkness my old friend E qua c'è altra bella gente Masa ovunque Everywhere Questa è la cucina Ancata a tutti ragazzi Oh andiamo Prendo Prendo una bottiglia d'acqua Ma Ma che cazzo Ancata a tutti ragazzi Ma torna dentro nel frigorifero Cosa ci fa quello lì nel frigorifero C'è incredibile Ovunque Ovunque Ok abbiamo lasciato la casa Questa è la strada Che abbiamo fatto ieri sera Che però era tutta buia Non so che È proccato dell'autismo Nelle retrovie Guardate ragazzi Che vista fantasmagorica Fa un caldo della madonna Stai di tagliarlo frate eh No non le taglio Io piglio le clip Le metto insieme Basta Non faccio tagli Ci sono comunque dei tagli Tra delle clip Vediamo se non tagli questo frate eh C'è un buste Con pagine di riviste Sto facendo Dopo stai con pagine di riviste